Aaaaaaah! Simone Mina non arriva. Buonasera a tutti. Di griffare il pareggio, 5-30 dalla conclusione e l'1-1 si concretica. Larsi chiedeva il pallone a Magalotti che però ha ancora un minimo vantaggio, 4 contro 3, pallone per il centro, per Deserti che si gira e mette, deposita il pallone in porta. Vice campione d'Europa, Arnaldo Deserti che ha fatto parte della spedizione di campagna a Zagab dalla conclusione del primo quarto. Subito il raddoppio in zona, la conclusione e l'incertezza di Mese. Dalla distanza, un ragazzo giovanissimo, pensate, in precedenza Magalotti non ha griffato il gol dell'ex, dalla parte opposta, la palobella a bersaglio, ancora una volta di Mese. L'errore compiuto in precedenza e ora sigla il meno uno, il giocatore nato dei suoi, c'è Roman Di Somma che nuota verso la porta di Moses. E lo batte con una... Prende il pallone con l'altra, un tocco leggero però che... Che va nel pozzetto, è soltanto Alessandro Di Somma tra i paladonisti in acqua, avere due falli gravi, impugna Celia ed è straordinariamente efficace di attaccante leader Ferretti, Alcaterra, di due falli di Alcaterra, ben ci venga, 2007. Da lontano il tiro a mano, il Tommy citato dal labiale di Camilleri, l'uomo in più, ancora però spiccioli di azione di superità numerica e questa volta riesce a battere. Hanno lasciato completamente solo... Che confonde un nervi che paga adesso ancora da parte di Daniele Bettini. E' proprio così, era uscito Bettini dal palo. L'uomo in mezzo di Celia, tiro che viene respinto da Mina, che poi si trova Celia a Linervi di poter raccogliere il passaggio al limite dei due metri, tutto solo. Più quattro con Camilleri, la squadra di Delgaldo, tre gol. È stato poco produttivo il nervi. Bogliasco che comunque ha dimostrato una capacità di reazione, mentre va ancora a bersaglio a fila. E per Alessandro Di Somma è il... Buonissima ma che non ha trovato oggi in Miechi l'aggregatore di gioco. Sì ma anche tutti i giovani che si erano ben comportati. Mentre va a bersaglio non Celia. Monte sia l'autore del gol. E così infatti, colui che era stato un po'... ...a lasciarsi andare in quel modo proprio per cercare il fallo. Il Bogliasco, ripeto, chiude la settimana difficile nel migliore dei modi. Mentre il Nervi conclude questa gara. Questa volta riesce a concludere come ha fatto in questo quarto tempo. Che vede ancora notare Giacomo Lanzoni verso la porta di Simone Mina. E sono tre redi consecutive per il Nervi che almeno, anche se due redi, come dire, non sono un... Essere un po' più, troppo morbidi con il pallone in possesso come Magalotti si è fatto rubare via il pallone proprio da Lanzoni che è nato a depositare in porta. E' dell'angolo che riescono a realizzare cinque gol in due per Romano. Ferno del meno cinque. E' passato però un'ulteriore incertezza difensiva del Nervi per far sì che il Bogliasco... E' dunque tutto per questa sfida di Bogliasco dove nel derby Ligure, uno dei tanti, la squadra di Del Gallo, il Bogliasco... E' un'ulteriore incertezza.